Due settimane fa Bud Spencer ha battuto Matteo Montesi qua in FCW Un tweet che vi ho fatto vedere due giorni fa nel primo match della settimana dove Matteo Montesi sfida Bud Spencer in un match nel Selvaggio West Ci siamo amici sportivi E il grandissimo rematch tra Matteo Montesi e Bud Spencer in un match nel Wild West Le regole sono quelle del false count anywhere Vale tutto ma a qualsiasi parte chiaramente sottomissione possono essere fatti anche sulla rampa sul tavolo commentatori, nel pubblico, a casa della nona sulla lavatrice No ovunque! Ecco che entra Bud Spencer Non c'è squalifica! Non c'è coliteggio! Vale tutto! Il nostro Bud Spencer mi ricordo, non è suscitato ma Ciccio taken a tanto nome di scorso anno Eccolo che entra qua su ring Della ACW Della ACW Vada ad affrontare una delle leggende Della nostra prima di ragazzo Della ACW Se non il ACW Matteo Montesi che Ha voluto questo match con regole Della ACW 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 ma come si è acconciato matteo che fa ma che fa il pistolero perché matteo fa questo perché firmato contratto mi sono andato per l'inferno perché roba spese chiama tutta una volta e può farlo una seconda volta è proprio convinto di essere uno sheriff cosa fa ma che tira anche gli schiaffi ma ma spazio di che lo guarda un gioco da ragazzi tesi è contento e si parte montesi contro matt spencer due un match con regole del far west a bacchare subito a terra la butta subito a terra non solleva montesi dice no tu mi hai fregato una volta non mi freghi più serie di calci ma spencer lo respinge il nostro main event poi nfc w cazzo tanto cazzo no wow senza una world struggle slam vada a terra così tesi ex campione di grande cattoli toscana quando esisteva ancora il titolo montesi doveva va subito a cercare qualcosa guardate cerca un oggetto contundente terra fuori mattelola pavolo sledgehammer ma subito lo usa malissimo che bud spencer lo respinge l'ambito si mette in mezzo a montesi contro il tavolo di quei tre che non so chi cavolo siano e prova a chiudere come potete vedere one lo schieramento e fatta missione vogliono da qualsiasi parte regole del false count anywhere match sono queste come vi ho già spiegato prima a wow a cos'hai fiero del buccato che era matelo tesi il nostro main event qua questa puntata di fc w a ex e non lo butta terra spencer è abituato a fare scazzottata senza regole montesi lo ha sfidato ma nel sacco lo che va incontro invece attenzione un dv t wow contro il granone d'acciaio eccolo con lo sledgehammer il martello la pavolo wow scambio di colpi incredibile oh 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 la face master a parte di matteo montesi prova a chiudere one che vuoi che sia che vuoi che sia montesi lo sta aspettando tutti insieme amici sportivi urliamola eccola qua topettino su place e nel momento di chiudere matteo montesi contro matt spencer ha finita one two oh wow dietro da fare matt spencer si ha visto difficoltà ma ancora tra noi non demorde e montesi prova di nuovo a chiudere one wow cos'è successo perché si è spento tutto cosa era storia in tocco di campana che cosa succede chi è ma quello è don matteo don matteo oh my god don matteo è venuto a toccare matt spencer oh mio dio che cosa fa che cosa fa oh tom stone tom stone piledriver what the hell oh no e si è rispetto tutta un'altra volta che cosa succede che cosa succede qua in fcw è tornata la luce cosa fa matteo montesi cosa fa prova lo schieramento prova lo schieramento oh my god one two three oh my god amici sportivi oh my god matteo montesi vince il match nel salvaggio west grazie all'inaspettato aiuto di don matteo che è arrivata in fcw a picchiare matt spencer il suo amico cosa è successo amici sportivi cosa è successo oh my god oh non riesco a crederci a quello che abbiamo visto in questo main event non ci resta che aspettare la prossima settimana con un nuovo episodio di fcw montesi batte matt spencer don matteo è arrivato max is awesome 92 diventa number one contender per il titolo di campione di youtube oh my god oh my god amici sportivi grazie per aver visto fcw anche questa settimana ci vediamo alla prossima qua su first maker championship wrestling ciao